La Regione Abruzzo ha fatto ricorso e noi facciamo un plauso alla Regione Abruzzo e che insieme alla nostra cooperativa, così la inquadro, abbiamo fatto anche noi ricorso in Cassazione contro questa sentenza dell'adunanza plenaria che secondo noi è stata scritta una sentenza veramente inquietante, non solo inquietante ma secondo noi ci ha messo la manina una parte del governo. Ci spiace che i provvedimenti legislativi passano attraverso i tribunali, è il Parlamento che deve modificare. Tornando al discorso della concessione, lei mi ha detto 2023, le nostre concessioni, buona parte delle nostre concessioni in Abruzzo scadono il 2033. Qualcuno ci dice che le nostre concessioni non sono valide, veramente noi aspettiamo che qualcuno ce lo dica. La differenza tra noi e chi non ha la concessione rilasciata con la legge fino al 2033 è il percorso di un'evidenza pubblica. A questo abbiamo fatto ricorso in Cassazione perché riteniamo che la giurisprudenza è un organo tecnico, ma se la politica fa una legge è dovuta a tutti farla rispettare e non può essere un altro istituto che annulli le leggi. Le leggi le annulla la Corte Costituzionale. Quindi l'adunanza plenaria ha voluto emanare un provvedimento che sta facendo discutere non soltanto i balneari ma diversi operatori della giurisprudenza. Ovviamente voi andate avanti nella vostra battaglia come balneari di tutta Italia, vi aspettate anche una mossa concreta da parte del Governo nazionale? Noi dal Governo ci aspettiamo poco perché abbiamo visto che il Governo è ostile nei nostri confronti, è molto ostile, ci ha preso anche in giro. Ha mandato dei suoi ministri a parlare in una conferenza stampa dove un disegno di legge era stato concordato al tavolo della concertazione, ma ci siamo accorti che il Governo ha fatto Pinocchio. Il Governo ha fatto Draghi e un Pinocchio. Detto questo, e questa è una reazione, voglio dire che noi dal Parlamento ci aspettiamo un senso di responsabilità, la smettessero i partiti di venire alle nostre assemblee e gridare che solo dalla nostra parte, perché quelle sono parole, poi devono passare ai fatti. Attualmente nei fatti noi ancora vediamo nulla. Grazie.